Buongiorno a tutti, vi invito ad iscrivervi a questo canile, mi raccomando iscrivetevi e condividete il canile facendo iscrivere tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete, seguitemi sui social qui elencati e scaricate l'app di OneFootball che vi dà notizie in tempo reale sulla Fiorentina, calcio mercato, calcio giocato, app nuova, sito nuovo, ve la consiglio, ve la lascio in descrizione. Allora so che dovevo fare questo video con l'accento toscano, va bene, ci ho provato ma mi stava venendo una storta al cervello e quindi per evitare di violentare la vostra lingua ho bisogno di una o due settimane di venire a Firenze, di imparare un po' il linguaggio e poi eventualmente lo ripropongo, quindi se riaprono gli stadi vengo giù a Firenze, ci guardiamo una partita assieme, andiamo all'antico vinaio a mangiarci una schiacciata con le feci, va bene, stiamo lì ad imparare, se no veramente viene fuori il disastro. Se volete ve lo faccio in veneziano, nessun problema, ma il fiorentino proprio non ci riesco per adesso, mi viene da imbalbarmi e quindi diciamo devo, ho molto da imparare anch'io come commisso, sono qui per imparare il fiorentino io però. Allora, oggi è un video abbastanza con e plesso, con tanti contenuti, quindi vi invito a stare sintonizzati, attenzione, attenzione, fino alla fine. Allora, vi ringrazio intanto perché siamo quasi a 14.000 iscritti, continuiamo a salire. Allora, facciamo così, dai, pongo una scommessuola difficile ma realistica. Se arriviamo a 20.000 iscritti entro Natale 2020, va bene, ci sono tre mesi circa, mi faccio biondo, mi ossigeno i capelli, però dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti entro Natale. Appena raggiungo i 20.000 vado dal barbiere e mi ossigeno, però dobbiamo arrivare a 20.000, quindi fiato alle condivisioni, alle trombe, se sono 5.000, 6.000 tifosi viola in più, tanto meglio, sono ancora più contento. Quindi datevi da fare soprattutto a voi. Auguri alla Fiorentina che oggi compie 94 anni, unico vero amore, diciamo, della mia vita extra familiare, quindi un grazie per le emozioni che mi hai fatto provare, per l'onore di essere tuo tifoso, per le bestemmie anche che mi hai fatto tirare, ma come me le hai fatte tirare tu non me le farà mai tirare nessuno e come me l'hai fatto tirare tu in certe volte, specie 4-5 anni fa, non me lo farà tirare mai nessuno. Quindi un grande abbraccio a voi, alla nostra squadra, attenzione, attenzione, e all'onore di tifarla nelle difficoltà, nelle traversie, ma è giusto così. Che noia tifare le squadre che vincono, fortunati noi che tifiamo una squadra esistenzialista come la Viola. La terza maglia, mi piace, devo dire che ho rivalutato le maglie, ho visto in azione quella Viola, con i pantaloncini Viola, il colore mi piace, devo dire, un pelo troppo bianco ancora, un pelo troppo alto lo sponsor, ma per il resto non è male. E la terza mi piace, piacerà ovviamente ancora di più ai fiorentini, perché ricorda insomma la Repubblica, il Poggio Bracciolini, il Poggio Bracciolini, Poggio Bracciolini. Avevo un professore di letteratura italiana all'università che era fissato con Poggio Bracciolini, quindi questa maglia me la compro personalizzata, se la compro quella rossa, e dietro ci scrivo Poggio Bracciolini in suo onore. Veniamo alle questioni serie, parliamo di calciomercato. Il procuratore Canovi si aggiunge alla lista di chi voleva cedere l'anno scorso, Chiesa. Dopo Olivera, dopo altri, chi è che era, Graziani, adesso sta venendo fuori, diciamo, la nouvelle vague, che sì, Chiesa bisognava cederlo l'anno scorso, adesso è tardi, bisognava cedere per investire, monetizzare. Io è da diversi mesi che lo sostengo, che poi era una cosa atta a rinnovare e rinforzare la squadra, non è che lo cedi perché ti sta sui maroni e i soldi te li metti in tasca, davano reinvestiti, era quello che a mio avviso bisognava fare, e non credo che tutti quelli che si svegliano adesso siano tutti scemi, quindi, ripeto, io continuo a dirvelo da mesi. Veniamo un po' di nomi, allora, si parla di Pavoletti, a me non è mai piaciuto, a parte che non lo credo realistico, perché penso che il giocatore voglia restare a Cagliari, ma in ogni caso non è che mi entusiasma, fisicamente non dà grandi garanzie, anzi, non mi ha mai entusiasmato particolarmente come attaccante, piuttosto caputo, cioè, a parte che sapete che io non è che sarei per l'acquisto di un bon bear, capito? perché penso che abbiamo già in casa della buona gente, però Pavoletti no. C'è questa questione di Muricchi, come si dice, che è venuta fuori oggi, tra Lazio e Fiorentina con, secondo se non sbaglio il Corriere dello Sport, la Fiorentina che si sarebbe inserita, e il buon Lotito che si sarebbe arrabbiato con Barone per l'inserimento della Fiorentina, e l'avrebbe chiamato dicendo di desistere, ma io sono un po' scettico su sta cosa, onestamente mi pare un'uscita giornalistica che non è che ci creda molto io, perché non so come si è venuta a saperla, questa cosa della telefonata di Lotito a Barone, non è che ci credo molto onestamente a sta storia. Parliamo di Biraghi, che ci tengo. Allora, io voglio capire una cosa. Il giocatore è ritornato perché Iachini ci vuole puntare, c'è scritto oggi su fiorentina.it, la Fiorentina ha rispedito Dalbert al Mittenti, in teoria, perché vi ripeto, non mi stupirei, anzi, continuo a sostenerlo, se questo affare, cioè lo scambio Biraghi-Dalbert, venisse riformalizzato magari più avanti. Ma se è vero quello che leggiamo, si legge che la Fiorentina ha rispedito Dalbert all'Inter, perché a livello prestazionale non ha offerto ottime garanzie, e anzi, è che Iachini sarebbe intenzionato a puntare su Biraghi. Biraghi è stato convocato di recente in nazionale. Biraghi, a mio avviso, anche comprensibilmente alla luce di tutto questo, chiede un aumento di stipendio. Allora, io voglio dire una cosa. I tifosi che la scorsa estate fecavano su Biraghi addirittura dicendo che Dalbert sarebbe stato meglio, c'era gente che diceva che per fortuna è arrivato Dalbert perché Biraghi fa schifo. Cioè, a volte bisognerebbe anche fare pace con la realtà e rendersi conto che magari i giudizi possono anche cambiare. Allora io vi chiedo, ma Biraghi vi sta sulle palle per motivi altri rispetto al campo? Per i parastinchi? Perché votate centro-sinistra e non vi piacciono i parastinchi di Biraghi? Come con Mijailovic quella volta, vi sta sulle palle per motivi... Ma allora ditelo! Anche a me Chiesa non sta simpatico, l'ho sempre detto che non mi piacciono i suoi atteggiamenti, non mi ci riconosco, non è una mia bandiera e non lo sarà, mi sta anche antipatico, ma non è che per celare questo dico che è un bidone, dico che è scarso, che non vale niente. È un buon, buonissimo giocatore, con dei limiti, non mi fa impazzire neanche tecnicamente, ma riconosco le sue qualità. Biraghi è l'unico nazionale che abbiamo oltre a Chiesa. A mio avviso, se dovesse restare a far la fascia, a tutta fascia, a me andrebbe benissimo. Di giocatori peggio di Biraghi ne abbiamo visti a Bizzeffe, a Firenze probabilmente ne vedremo di altri ancora. Ha fatto un finale di campionato increscendo con l'Inter. Ha una media voto dell'Inter che è tra le più alte dei difensori della stessa Inter. Cioè io non capisco veramente questo accanimento su Biraghi che è un giocatore che a mio avviso a Firenze ci potrebbe stare benissimo e che la realtà ha dimostrato che in una piazza come Firenze ci può stare alla grande. Ci può stare alla grande uno come Biraghi, secondo me, ripeto, dovesse tornare e non dovesse ritornare all'Inter. E vi dico anche di più. Si parla di uno scambio con la Roma tra Spinazzola e Biraghi, ma io mi tengo tutta la vita a Biraghi. Cioè per me lo scambio Spinazzola-Biraghi è un grande no. Tra Spinazzola e Biraghi, tutta la vita a Biraghi, che oltretutto è anche più iacchiniano di Spinazzola, è più fisicato, è uno che in difesa può dare una mano, è uno che conosce Firenze, è uno che si infortuna molto meno rispetto a Spinazzola, magari per quello che abbiamo visto, che ha meno cali. Quindi io tra Spinazzola e Biraghi, tutta la vita a Biraghi. Poi vi faccio anche notare che su Biraghi ci sarebbe sto problema di rinnovo, perché Biraghi ha chiesto un aumento di stipendio per ritornare a Firenze e la Fiorentina non avrebbe così in agevolezza il rinnovo perché chiede delle cifre un po' alte, magari la società non vuole, non può, non lo so. Però allora io adesso faccio un'interrogazione parlamentare rispetto allo stato della stampa attorno al mercato della Fiorentina. Allora, abbiamo problemi a rinnovare un Biraghi, non si parla di un Biraghi che chiederà quanto al massimo di rinnovo, 2 milioni di euro a farla grande? Cioè noi abbiamo problemi a rinnovare Biraghi a 2 milioni e dovevamo andare a prendere Tiago Silva? Cioè, e la trattativa Tiago Silva doveva essere realistica che ne piglia 10 al Chelsea? Poi, altra cosa, attenzione, attenzione! Se state leggendo le cronache anche relative alle altre squadre può essere che Tonali vada al Milan per una offerta che facendo due conti consta in 10 milioni oggi, 20 milioni l'anno prossimo più 5 di bonus. Addirittura si parla di diritto di riscatto e non di obbligo per il Milan. Ma mettiamo conto anche che sia un obbligo. Cioè, si sta lì a parlamentare che alla fine può essere che Tonali vada via da Brescia per una cifra attorno ai 30-32 milioni di euro e a sentire la stampa, diciamo, esaltatrice noi avevamo offerto 50 milioni cash a Cellino che sarebbero stati o rifiutati o che il giocatore ha rifiutato la destinazione. Ecco, permettetemi di dire che io, che l'offerta a Thiago Silva sia stata, diciamo, reale e puntuale fino alla fine e che abbiamo offerto 50 milioni cash a Tonali ci credo poco, 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 poco. Perché non so se avete visto ma se sono vere le cronache che ci narrano in questi tempi Tonali non ha avuto troppi problemi a dire se non c'è l'Inter a me va benissimo anche il Milan. Io dubito che l'anno scorso Tonali avrebbe, diciamo, schifato la Fiorentina fin da subito così ricordiamoci che era in arrivo in una neopromossa io penso semplicemente, mio parere personale voi potete essere d'accordo o no che quei 50 milioni lì non siano mai stati offerti e penso che a Thiago Silva al di là di un sondaggio, di una chiamata che si può fare per qualunque giocatore per chiedere delle informazioni non si sia andati questa è la mia opinione personale perché non posso credere che Cellino, sapendo che la Fiorentina era pronta ad offrire 50 milioni cash a fronte dei ritardi dell'Inter per chiudere sul giocatore ammesso e non concesso che sia veramente questa la situazione e di un Milan che lo vorrebbe comprare ma non è che ha tutti questi soldi da buttare sul tavolo io dubito che Cellino a fronte di una offerta reale di 50 milioni a. non abbia riallacciato i contatti con la Fiorentina cercando magari di convincere il giocatore b. non abbia nemmeno citato la trattativa perché se io sono Cellino e vedo che Inter e Milan stanno a fare la poveranza o cercano diciamo di rimandare di abbassare dico anche pubblicamente parlando anche pubblicamente parlando in maniera molto impattante dico ragazzi guardate che c'è una squadra che si chiama Fiorentina che per il giocatore non più tardi di 6-7 mesi fa mi ha offerto 50 milioni quindi o vi date una mossa o io i contatti li riallaccio niente zero non ne ha accennato non ne ha cioè ha preferito accennare a Maldini all'offerta del Milan piuttosto che ad una presunta offerta di 50 milioni che a sentire la stampa gli sarebbe stata recapitata sul tavolo posso essere scettico? posso? 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 o dobbiamo credere a tutto diciamo all'esegesi rocchiana che offre 300 milioni di tizio che Suso 40 Tonali 50 e quell'altro che era De Paul 35 però alla fine sì sempre la ruota in autostrada e il contratto che la stampante aveva finito il toner però era tutto pronto posso essere posso? 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 oh ha ragione Bargigia Bargigia oggi ha fatto un bellissimo io vi dico viva Bargigia va bene viva Biraghi e Bargigia oggi oggi Bargigia ha detto molti dicono che io sono diciamo che sono acido che sono un rompiballe ma io faccio dice Bargigia quello che tutti i giornalisti dovrebbero fare cioè rompere le balle e ha ragione purtroppo in Italia mi spiace dirlo ma molto giornalismo non rompe le palle ma cerca diciamo plausi facili cerca leccatine pontatine leccaculistiche purtroppo ce ne fossero di più di Bargigia e avremmo veramente io penso che avrebbe anche dei grandi risultati un giornalismo puntuto e puntuale avrebbe anche dei risvolti positivi sulle prestazioni delle squadre italiane perché alzeresti il livello di critica alzeresti quindi la capacità analitica di conseguenza la capacità di risolvere i problemi pensate se a Firenze lo scorso anno al posto di avere uno stuolo di gente che ha gettato tappeti rossi si ha commisso ancora quando non si sapeva chi fosse e cosa doveva fare avessimo avuto invece una critica un po' più puntuta un po' più sul punto capace di dire guarda benissimo così benissimo le intenzioni però qui stai sbagliando guarda attenzione va benissimo il tuo entusiasmo ma far calcio in Italia non è molto semplice è meglio se al posto della dirigenza che hai fatto ti pigli qualcuno di più esperto guarda Rocco va bene questo e quello però non mi sembra che il calciomercato sia così entusiasma pensate se avessimo avuto a fianco di questo una critica capace di pungolare diciamo e non solo di stendere tappeti rossi per usare un eufemismo magari ne avrebbe guadagnato e commisso in esperienza e in consapevolezza e di conseguenza tutta la squadra però sia mai questo sia mai sia mai viva Paolo Bargigia gli dedico questo video al buon Paolo Bargigia poi vediamo qua qualcosa che non torna alla facciazza dei parastinchi di Biraghi allora questo l'ho detto di Tonali e Silva Buonaventura e Borca Valero allora Buonaventura io ve l'ho detto in 300 salse non vedo a cosa ci serva in questo schema è anche un giocatore abbastanza mi piaceva prima di quell'infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo dopo ho diventato un giocatore abbastanza normi diciamo è diventato un giocatore abbastanza normi ne farei volentieri a meno di Buonaventura non vedo a cosa ci serve per quel che riguarda un Borca Bis per me è un grande no adesso c'è tutto il ritorno romantico dei tifosi dei tifosi da sop'opera di Rete 4 oserei dire che ha Borca torna Borca torna ha 46 anni nel gioco di Iachini per me c'entra come i cavoli a merenda basta anche basta ritorni dopo i vari Badel, Tizio, Caio per piacere anche no cioè sarebbe cosa un'operazione nostalgia un'operazione nostalgia che non va a risolvere quelle che a mio avviso sono le nostre necessità imperanti quindi per me un Borca Bis è un no mi dispiace è un no credo avrebbe fatto più comodo all'Inter che a noi paradossalmente perché l'Inter di un ragionatore di un calmieratore di centrocampo avrebbe potuto aver bisogno noi abbiamo bisogno di un giocatore di sostanza di un giocatore che metti a centrocampo e fa tutte e due le fasi con grande intensità con grande esperienza Borca Valero alla sua età non penso che possa sì certo il Borca Valero di 5-6 anni fa magari averlo ma questo qui per me è un no per me è un no a meno che non venga a Firenze ma come non averlo nel senso che viene a stare in panchina a fare supporto morale alla Buffon e ti fa quelle 10 partite l'anno per carità però già siamo tanti in squadra e c'è da sfoltire gli esuberi eviterei anche Benassi al Verona per me è un no perché è un giocatore che io me loterei Benassi dico la verità è un giocatore che non gioca tanto ma quando gioca il suo lo fa sempre tatticamente è anche abbastanza duttile può essere un buon un buon trequartista è uno che tira da fuori è uno che ha il senso del gol è uno che spesso ha fatto gol pesanti io Benassi onestamente poi se Iachini non lo vuole o non ci punta avevo letto diversamente quando era arrivato avevo letto che che Montella trattava male Benassi e con Iachini l'avremmo riscoperto adesso si parla già di cederlo vabbè poi c'è sta roba di Torreira e Piontek che va avanti diciamo questa trattativa infinita per Torreira e Piontek vediamo c'è stopper la Fiorentina che offre il prestito con diritto ma l'Arsenal vuole un parto un parto diciamo neanche un parto dal davanti per non scadere nel peco greccio un parto dal di dietro ecco queste due trattative specie Piontek da quanti cazzo di mesi è che sentiamo parlare di Piontek alla Fiorentina doveva ancora ricominciare il campionato se non sbaglio siamo a settembre praticamente siamo ancora dietro a Piontek i 20 25 22 23 la Fiorentina stiamo comprando Harry Kane e non ce ne eravamo accorti stavamo comprando Harry Kane e non ce ne eravamo accorti poi se arriva Torreira mi piace come giocatore mi piace molto speriamo si possa fare ma non la vedo non la vedo così facile non mi stupirei se poi alla fine si virasse su altri su altri obiettivi bene questo dovevo dirvi ditemi cosa ne pensate condividete questo video mi raccomando con tutti boom baby bye ascoltatevi boom baby di Joker ancora un caro saluto buon sabato sera e ci aggiorniamo domani attenzione attenzione che farò un altro video ovviamente sulla Fiorentina un caro saluto